Oggi abbiamo fatto questo incontro in provincia, dove sostanzialmente abbiamo illustrato la provincia e i rappresentanti della regione, dei sindaci e dei comuni interessati ai siti produttivi e il Presidente della comunità montana. Abbiamo più chiaramente le rappresentanti sindacali e i personaggi che rappresentano la procedura concorsuale. A tutti questi abbiamo spiegato qual è la situazione attuale, col fatto che i due stabilimenti di ospitaletto via Brescia e Nave sono stati collocati con Nesse Lunghe da una parte e con Ferralpi dall'altra e che però noi siamo arrivati a un bivio rispetto al fatto che c'è una condizione che riguarda la vicenda di via Bologna e di Montirona che non sono ancora sostanzialmente state collocate da questo punto di vista. Per cui abbiamo interessato la provincia e tutti questi enti di poter avere una risposta in tal senso soprattutto nei termini che riguardano i tempi e è uscito comunque un comunicato fatto dalla provincia, dai dai sindaci e dalla comunità montana che ha uscito il ricorso appunto alla Cassa Invergo da questo punto di vista. Per cui vediamo se nei prossimi giorni questa cosa si sviluppa e diventa abbastanza fattibile. Ecco, questa è un po' la cosa su cui abbiamo ragionato. Perché con la fine del mese e con l'inizio appunto di giugno c'erano delle scadenze importanti. Il 2 giugno la Cassa straordinaria per tutti insomma. Poi chiaramente di tutti si dividono tra il fatto che l'ospitaletto e l'Evrescia nel frattempo non ha avuto collocazione. Però per Montirona e via Bologna insomma c'è stata scadenza. Quindi c'è ancora incertezza per alcuni? Sì, sì. Prossimi appuntamenti? C'è il martedì pomeriggio alle 18 c'è di nuovo la convocazione sempre in provincia di questo tavolo di discussione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.